I consiglieri del gruppo PD in consiglio regionale Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Dino Pepe affiancati dal segretario del Partito Democratico Abruzzo, Michele Fina, hanno espresso le loro critiche sulla situazione del trasporto pubblico regionale. Il rapporto presentato dal PD arriva in concomitanza con la riapertura delle scuole e segnala diversi problemi legati alla muntenzione dei mezzi e alla modulazione delle tratte. Secondo i consiglieri PD, la vicenda dei servizi minimi, strettamente connessa al mantenimento dell'inausa, attua e gestita in maniera approssimativa dall'attuale giunta. Silvio Paolucci, capogruppo PD, illustra le criticità analizzate. Un caos, un vero e proprio disastro dovuto al fatto che in questa regione il governo regionale non è in grado di programmare molto lento e i danni ovviamente si materializzano purtroppo per quanto riguarda l'Abruzzo e gli abruzzesi. Abbiamo una situazione in cui i mezzi sono a terra, manca il personale, i concorsi vengono bloccati, ci saranno tagli, privatizzazioni e all'apertura dell'anno scolastico si può rischiare un vero e proprio caos. Il consigliere Antonio Blasioli si sofferma sulla situazione degli autobus. C'è una legge, la 190 del 2014, che prevede che dal 1 gennaio del 2019 non possono più circolare autobus Eurozero, M2 e M3 e noi sappiamo invece che Tua, tra gli 865 mezzi a disposizione, è fornita di moltissimi autobus Eurozero. Inoltre parliamo di mezzi molto vetusti, insicuri, spesso sporchi, perché parliamo di mezzi molto vecchi. Dovete tenere conto che se in Europa la media di funzionamento di un autobus è di 6 anni, per la tua in Abruzzo parliamo di una media di funzionamento di 12 anni. Poi vogliamo ricordare anche l'eredità lasciata dal centro-sinistra, l'acquisto di 206 autobus che permetterebbe appunto di rimpiazzare moltissimo di questi e di abbassare la media di funzionamento degli autobus a 9 anni nel 2019 e nel 2020 addirittura a 7 anni e mezzo, insomma riportandoci in linea con l'Europa.